troppi troppi video ragazzi c'è è un casino lasciatevele fare per favore sto impazzendo ma arriva anche il mio tra poco ragazzi non fate casino che il bronzo che è stancato di questa vita sta riposando perché si è stressato troppo chi è che ha gli occhi della tigre oggi no ma fammi vedere un po francesco guapo papà non ce la fa più è stanco è vero tu sei stanco un pochino che tu fa caldo amore come è stato questo viaggio bronzo sto sentendo caldo ragazzi ma caldo fa caldo a salerno ciao mi chiamo valentina debiasi ciao mi chiamo giampaolo quarta e questo è il meglio dopo il cinese una bella crepe nutella crema con panna grazie a tutti